E' bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video di Minecraft Oggi siamo, si amici, siamo stati sulle Sky, forse voglio almeno 30 like per un altro grandissimo ritorno su questo gioco Chiamato Minecraft, visto che i primi episodi sono andati bene, quelli sui ritorni Quindi quello è un cazzo di mi piace adesso, se no, chi non lascerà mi piace e verrà perseguitato a casa da Gianni Morandi Vi sto già avvisando, quindi non so se volete Gianni Morandi a casa molto volentieri, non lasciate mi piace, però Non so voi, vedete voi cosa fare, se la cena mi piace o meno, io andrei ad uccidere quello lì sinceramente Perché oggi ho poca voglia di scherzare Ringrazio a tutti per il supporto che salteranno in questi giorni al canale Vedo che i miei episodi stanno salendo e questo mi dà solo che felicità per le serie Anche la muova dove prendo le serie di Shadow e ve le metto a vuoi su YouTube Che molta gente diciamo che fa comodo perché poi dopo un po' alla fine spariscono le serie di Instagram Quindi non chiedevo a ottenere un ricordo di un po' di tutto Ma comunque tanta gente mi ha scritto anche Stefano ma perché non stai più portando la vanilla Perché ho perso il coso della vanilla, il segno della vanilla nella switch Quindi a settembre ripartirà un'altra vanilla Da zero Quindi raga voi pensatelo come un video fake quello Ok perfetto, ce ne torniamo assolutamente indietro Sperando che non mi stia seguendo E vi è c'è Abbiamo qualcosa di buono Non avevamo proprio un cazzo Non avevamo solo queste palline Di merda C'è raga ma guardatelo Guardatelo non muore Ah allora muore Ma grazie Perfetto Io direi di non perdere altro tempo Andiamo avanti Tra l'altro lì c'è anche il libro degli incantesimi dove eravamo prima Quindi Nel caso dopo se il gioco ci lo permette Se abbiamo tempo Andiamo a fare il rifornimento Scusate amici per il raffreddore Ma va bene così Ragazzi anche perché questo server è quasi meglio di iPixel Il server si chiama Blocksmc.com E' comodissimo ragazzi E diciamo che lagga anche di meno di iPixel Quindi E' per quello che lo sto usando Lo stavo provando in questi giorni Si doveva metterlo Molto a comodo Dai ecco sì Dai che non puoi vincere te E vabbè c'è te tu il blaze Ma affanculo Chi c'è vista c'è vista Non puoi battermi Ma perché Come Come cosa Vabbè amici Ne riproviamo un'altra perché Ne ho voglia Perfetto Non perdiamo altro tempo Prendiamo tutto quello che dobbiamo prendere Perfetto Ma guardate quanto ben di dio che ci hanno dato già Già dall'inizio Quindi Ci siamo preti anche bene Abbiamo la roba potenziata Che è una roba che non ci hanno dato ad esempio prima Quindi Sì è meglio Mori Questa raga la gente incompetente Che gioca nelle sky wars ancora oggi Cioè E' pazzesco Pazzesco Veramente E' la madonna Però anche io Sono deficiente E' forte E' se ne riproviamo un'altra Sì perché c'ho voglia Sicuramente raga Non mi Non mi perdo l'animo Sicuro Ok Buonissima Con il Looting E fire aspect Buonissima Raga le spade Così Più basta Cioè io Veramente Ci rinuncio Ci facciamo L'ultima Se io Perdo Questa Giuro Giuro che me ne vado E non ci torno più Abbiamo capito Che abbiamo perso la stima Dalla sky wars In questi anni Certo Certo E raga capisco Che comunque Mi devo anche riprendere Io che sono Da una vita Che non ci gioco Muori Ma come ha fatto Come Vabbè Vabbè Non è possibile Adesso Proveremo Quella di gruppo Anzi La duo Raga Volevo provare la duo A vedere se faccio Anche schifone La duo Ancora Perché non è possibile Tu compagno Devi aiutarmi Capito E se non la capitola Devi capire Perché Se no Non vorrei perdere Anche nelle duo E sono sincero Su quello che dico Perché se io Perdo anche qua Giuro che io Blocco la registrazione E basta Io me ne vado via Sinceramente Ok Devo cercare di mangiare Allo stesso tempo Andare avanti Perché se no Qui non facciamo Il culo A nessun Dai Dai che questa roba È abbastanza buona Dai Raga Siamo armati Anche bene Non siamo C'è Nessuno Che non facciamo Così schifo Muori Morite Morite Sì Non morite Vabbè Amici Sai il fatto Che ho preso Tutto il looting Quindi Adesso Vi faccio male Ho 3 miliardi Di spade Ma va bene Così Meglio Che non averlo Abbiamo anche Le TNT Che non vanno Che non vanno Sicuramente Buttate via E andiamo Perché se vinco Questa è tanta roba Se invece Vincono gli altri Non mi piace Per niente Amici Mancano 5 giocatori E non mi posso Permettere Di perdere A meno che Questi non siano Più forti Di noi Allora Sì È probabile Che perdiamo Ok Ok Cazzo La ender pearl Non serve Proprio a niente Devo ammetterlo Ok Morice Grazie Molto gentile Molto gentile A mettere La pressure plate Per Farmi il culo Ma Mi spiace Non è riuscito Molto bene Il vostro intento Mi sa tanto Lino Vabbè Ok Bene Bene Per esplodere Le ceste Yeah Raga Devo prendere Ogni contenuto Possibile Buono Perché Perché se no Macello Muori Muori Sì Sì Dai Dai che abbiamo Vinto Dai così Dai così Oh Così sì Che mi piace Amici Questo video Finisce così Ci vediamo I 30 like E vi facciamo Un altro video Ciao